Basilicata è sempre più terra dedicata alla settima arte. A dare impulso alle storie e personaggi fin dalle origini, un lavoro dedicato a Robert Vignola, lucano emigrato da Trivigno nel Potentino fino agli USA dove nei primi del Novecento divenne uno dei primi divi del cinema muto. Il suo attore, regista e produttore innovò le pellicole e fu tra i primi a toccare temi importanti ancora attuali a tutt'oggi a sfondo religioso con la vita di Cristo e sfondo sociale sulla mafia. Si ricordano le collaborazioni con importanti attrici del tempo e soprattutto fu un innovatore delle pellicole. Noi lo scorso 28 di agosto abbiamo assistito ad una prima assoluta, quella dell'opera visuale realizzata dalla casa di produzione Lucana F9, un'iniziativa voluta dal comune di Trivigno che grazie al supporto della regione Basilicata e della Lucana Film Commission punta a far divenire il centro potentino quale casa del cinema muto. E allora vediamo ed ascoltiamo le prossime interviste. Una storia di emigrazione e di cinema finalmente viene reso omaggio a Robert Vignola, un trivignese doc conosciuto a livello mondiale. Certamente è un talento e infatti l'ha dimostrato con i suoi 200 film. Il nostro concittadino più illustre a 20 anni, partendo dall'Italia a due anni e trovandosi in America e diventare il più grande regista di tutti i tempi, certamente ci troviamo di fronte a un cegno. Si parla di cinema muto, è un'occasione per l'intera comunità? È un momento che i cittadini di Trivigni si raccolgono. Il cinema muto non è un cinema soltanto di nicchia. Noi vogliamo che innanzitutto portare nelle scuole il cinema in modo tale da far emergere quelle sensibilità e chissà che non nascono veramente dei genietti che possono proseguire il cinema muto e quindi vederlo con occhi di 80 anni dopo. Fece visita qui nel 1936, donò anche un monumento, insomma voleva davvero bene i suoi trivigni. Era di animo buono tant'è che quando ritornò in Italia con il padre donò il monumento ai caduti che per allora era un costo veramente eccessivo, 20.000 lire. Era un uomo ricco ma anche buono. Era semplicemente Robert non conosciuto da Divo possiamo dire? Sì, solamente Robert. Tanto che era buono è che lui fumava il sigaro e i bambini si prenotavano per andare a comprare il sigaro perché a ogni bambino dava un dollaro di quei tempi quindi era una bella somma. Infine un auspicio da qui in avanti per Trivigni attraverso il cinema muto Robert Vignola. Non solo Robert Vignola perché è non soltanto Trivigno, noi cercheremo di coinvolgere anche gli altri comuni in modo tale da poter fare sì dei cortometraggi ma che possono interessare i comuni viciniori ma anche tutta la Basilicata e Matera per quanto riguarda proprio le bellezze indirizze della Basilicata. Il lavoro di F9 arriva a questo evento in piazza plebiscito a Trivigno finalmente i trivignesi, gli amanti del cinema, quello notoriamente di immagini e di voce ma in questo caso di inizio del Novecento riscopre Robert Vignola è un'icona di questo territorio a livello mondiale. Robert Vignola è un personaggio strepitoso. Partito da Trivigno quando aveva solo tre anni seguendo la famiglia ovviamente agli inizi del Novecento alla ricerca di fortuna in America arrivato negli Stati Uniti subito diventa prima da attore e poi da regista un personaggio centrale del cinema muto-hollywoodiano. La sua particolarità è proprio questa, aver segnato un punto di cambiamento è entrato in maniera irruente nel cinema di quegli anni cambiandone se non la dinamica quantomeno alcune poetiche. In particolare è stato forse unico nel lavoro sicuramente originale nel lavoro che ha fatto sulle attrici. Le attrici amavano lavorare con lui perché riusciva a valorizzare la figura femminile in maniera non stereotipata secondo canoni non classici per così dire. La sua conoscenza del teatro poi lo porta ad essere innovatore nel cinema perché porta la conoscenza delle macchine teatrali nel cinema e quindi è forse un precursore di un certo atteggiamento di fantasia nei confronti di una storia da raccontare. È stato difficile raccontarlo anche attraverso l'opera di ricerca che c'è stata a monte per arrivare poi al prodotto finito. È una storia importante ma è soprattutto una storia che ha bisogno di ancora tanta ricerca perché il materiale a disposizione è tanto, va ancora ricercato, studiato, sviluppato e maneggiato. Per noi il punto di partenza è proprio questo, una ricerca lunga, densa ma con un rigore scientifico. Quindi il materiale va controllato, recuperato e messo insieme per raccontare questa storia che merita assolutamente di essere portata al pubblico. Non è solo Robert Vignola che emerge, se vogliamo, è il senso anche di una piccola comunità di inizio novecento che non conosceva Robert Vignola e poi l'ha conosciuto a distanza di tempo. Torna a Trivigno nel 23 per un viaggio familiare, insomma alla ricerca delle origini e quando torna a Trivigno era già famoso in America ma a Trivigno crea scompiglio perché ovviamente arriva con tutta la potenza dell'essere un attore americano ma poi non c'è una grande memoria di questa sua visita e soprattutto la stessa cosa accade nella storia della cinematografia più diffusa e più conosciuta sul suo personaggio. È un personaggio che è ancora poco conosciuto ma che merita assolutamente di essere riscoperto. L'evento di oggi è una tappa d'inizio, crediamo, di un percorso di valorizzazione del personaggio del cinema muto per arrivare dove? Il progetto che stiamo portando avanti grazie innanzitutto al comune di Trivigno che ha creduto in F9 e che ci ha affidato questo progetto di valorizzazione con il supporto della Lucana Film Commission della Regione Basilicata e con la preziosa collaborazione di una realtà consolidata rispetto al cinema muto che sono le giornate del cinema muto di Pordenone e la Cineteca del Friuli. Quello che vogliamo fare è continuare ad andare avanti nel progetto di valorizzazione e sostenere quanto più possibile l'idea di rendere Trivigno un punto di riferimento per il cinema muto almeno nel mezzogiorno. Un'altra storia di emigrazione, una delle tante, in questo caso un divo del cinema muto partito da Trivigno con tante belle speranze e si è fatto apprezzare nel mondo. La nostra emigrazione è fatta di tante storie, storie magari molte volte misconosciute o non conosciute abbastanza perché i nostri emigrati nell'ambito di questa emigrazione si sono distinti, molte volte hanno dato anche nei paesi in cui sono stati personaggi come Vignola sono del tutto sconosciuti se non attraverso adesso il ricordo, la ricerca che un comune che è quello di provenienza sta facendo. Quello che sta nascendo stasera qui attraverso Robert Vignola è esattamente dalla cifra di quale possa essere il valore e il vantaggio che possono dare a queste comunità. Se dovesse nascere il museo del cinema muto qui a Trivigno, un piccolo comune, una piccola comunità che si sta spopolando è un elemento in più per dare un minimo di speranza a questi centri affinché possano guardare al futuro con una speranza in più. Siamo vicino a grandi macroattrattori, potrebbe qualcuno anche essere interessato a venire a vedere qualcosa di culturale, il museo del cinema muto, se il sindaco Marino riuscirà a portarlo avanti la regione Basilicata sicuramente gli dovrà dare una mano e contestualmente alla costruzione di questo punto culturale che può essere attrattore turistico noi dobbiamo continuare perché è anche il nostro ruolo a studiare l'emigrazione come opportunità e non come problema. Da Trivigno Hollywood appunto la comunità potentina riscopre Robert Vignola, era un divo già ai tempi in cui Hollywood nasceva, poco conosciuto proprio dai suoi concittadini. Lucana Film Commission ha messo attorno a un tavolo tutte le esperienze giuste per farlo crescere in maniera significativa, come si fa nelle opere di coesione trovando il meglio che c'è sul nostro territorio, F9 è una start-up nata col bando alla crisi che sta crescendo molto bene e sono stati in grado di rapportarsi con la maggiore studiosa di cinema muto americano questo link con le giornate del cinema di Pordenone è nato un bel progetto che secondo me può proseguire può dare importanti presenze a un figlio di questo territorio che meritava di essere riscoverto ma non solo in quanto lucano ma proprio per quello che è espresso nel cinema che come capita è andato nel dimenticatoio e che può aprire delle finestre sul cinema muto che è di nicchia ma è una nicchia significativa. Se pensiamo che noi fra pochi giorni a Venezia presentiamo un cortometraggio che è l'esordio dietro la macchina da presa di un grande talent di origine lucana che si chiama Claudio Santamaria che ha girato un cortometraggio sostanzialmente senza dialoghi solo con musica lancio un messaggio insomma ai giovani cineasti a chi vuole fare cinema se vuoi fare il cinema nel contemporaneo devi conoscere la storia del cinema. La comunità di Trivigno riscopre un cittadino illustre Robert Vignola ai tempi già un divo magari poco conosciuto proprio dai suoi concittadini. Questo è il destino di molti dei lucani altrove come li chiamo io di essere poi in qualche modo dimenticati nella terra di origine. Credo che questa riscoperta sia importante soprattutto in un paese come Trivigno. Trivigno è uno di quei paesi che diciamo banalmente ha rischio di estinzione. Qual è la risorsa sulla quale queste comunità possono puntare? È appunto la risorsa immateriale anche della cultura. Riscoprire il valore dell'immagine non diciamo sporcata dalle parole che forse sono troppo eccessive forse è un bel esercizio intellettuale che tutti dovremmo fare. Le giornate del cinema muto di Pordenone sono già una realtà. Trivigno inizia quest'oggi un lungo percorso grazie ad Unicona. Questo personaggio che è nato qui a Trivigno è un personaggio che per le giornate del cinema muto andava molto per la maggiore. Il nostro primo direttore 30 anni fa ci diceva guardate che dobbiamo studiare Robert Vignola. Qualche tempo dopo ci è capitato anche di poter proiettare alle giornate del cinema muto di 4-5 anni fa un paio di film che erano molto interessanti, molto belli per cui insomma il legame si è consolidato e siamo qui a fare un po' d'apertura di questa riscoperta che era importante e che andava fatta. Proprio il cinema muto magari viene visto come qualcosa di lontano, come farlo apprezzare ad un pubblico moderno e magari giovanile? È difficile ma non impossibile. Alle giornate del cinema muto abbiamo parecchi giovani che vengono e che sono un po' il pubblico delle lezioni. Molti film sono dedicati a loro, molti incontri sono dedicati ai ragazzi e ai giovani. Il fatto di vedere poi dei film belli, dei classici del passato, con un bel accompagnamento musicale è una cosa che dà una mano a far capire che è un mondo tutto da riscoprire e da valorizzare anche da parte del pubblico giovanile. Secondo lei che cosa dire ai trivignesi per apprezzare fino in fondo questo cittadino illustre? Vignola è un importante regista ed attore che ha una sua storia che va valorizzata, va riscoperta. Ci sono film che non si sono visti da tanti anni ma ci sono anche tanti articoli, tanti manifesti, tanti materiali iconografici di altro genere, insomma foto di set che vengono fuori facendo questa operazione. È importante per la Basilicata la riscoperta di queste personalità e quindi non solo per il Trevigno ma proprio per tutta la zona.